Amici di milan.soccer, eccoci di nuovo insieme il canale dedicato al Milan, il vostro canale, e perché sia davvero vostro vi ricordo l'iscrizione qui sotto semplice, gratuita, da qualche parte c'è scritto iscriviti, like al video e l'attivazione della campanella per rimanere sempre aggiornati sotto in descrizione, vi lascio i nostri altri due video, il link per potervi accedere, beh uno è particolare perché la storia del Milan domenica esce uno speciale derby e se qualcuno vi dice beh noi abbiamo vinto sei derby di fila, lo so che state pensando che saranno sette, però atteniamoci ad oggi, voi risponderete che anche nella storia è già successo altre due volte, tutte e due le volte è stato il Milan a prevalere, quindi andate a darci un occhio, e poi l'altro dedicato al Milan Under 23, si parla di Milan Futuro Torres con Bonseca, il nostro allenatore Bonseca che secondo me rischia tanto quanto Fonseca, si è giocata ieri Milan Torres, c'è tutto, cartellini, sintesi, pagelle, allora, andato che vogliamo iniziare, ieri ascoltavo un'interessante intervista di Luca Serafini, giornalista sempre molto, non è schiavo del potere, ecco, un personaggio libero, sa dire le cose, le sa argomentare e dà notizie, e allora me lo sono scritto perché mi sono sempre chiesto ma esattamente come sono andate le cose con Paolo Maldini, voglio iniziare da lui, poi arrivo al titolo della copertina, andiamo per ordine, lui dice Maldini ha pagato le esposizioni mediatiche pubbliche, Gazzidis era molto bravo, perché comunque era un uomo di calcio, ma Maldini doveva rispondere a lui perché lui era il riferimento di Elliot e questo Maldini non l'ha accettato di buon grado, quindi faceva, disfaceva ed era poco diplomatico, non sopportava questo essere sotto Gazzidis e poi soprattutto dice Luca Serafini ha pagato le esposizioni mediatiche pubbliche. Ora commento non la notizia, se vogliamo chiamarla notizia, l'informazione, ma commento perché, perché che sia Elliot o che sia il nostro Redbird non è cambiato nulla, cioè non ci deve essere esposizione mediatica. E allora questo filo conduttore mi fa venire in mente che se Maldini ha pagato per questo, oggi nessuno si espone mediaticamente, se non attraverso quelle battute alla Sanremo di Ebraimovic, stessa politica, stessa filosofia, solo una coincidenza, oppure davvero Elliot è ancora tra di noi? Staremo a vedere, si avvicina Halloween e quindi i fantasmi girano, facciamo molta attenzione. Allora, per quanto riguarda gli allenatori del Milan, novità, novità, novità. Dunque, escono nomi, la Gazzetta ci dice che in pole position c'è Sarri, altri ci dicono tra i due litiganti il Terzic gode, Borussia Dortmund, c'è chi, come nel caso di Specie, Luca Serafini, dice io preferisco con Seisau, sa qualcosa? C'è qualcosa? La questione rimane in questi termini. Ho ascoltato un'altra intervista che diceva una cosa che io trovo assolutamente imbarazzante, cioè Fonseca è stato preso perché conosce le lingue, che è una cosa incredibile. Io ho un'amica poliglotta, potrebbe essere allenatore del Milan, cioè parla il portoghese, parla l'inglese, questa è la motivazione. Ora tenete presente che il Milan è una torre di babele, cioè ognuno parla la sua lingua, chi il portoghese, chi l'inglese, chi lo spagnolo, chi l'italiano, chi il francese, chi l'indiano, chi l'aramaico, chi il latino, chi il greco, cioè dovete fare un minimo di squadra dove ci siano persone che parlino italiano, perché se vogliamo prendere Sarri, io voglio Sarri, forse è la mia prima scelta attualmente, però bisogna metterlo nelle condizioni di poter dialogare con queste persone. Avete fatto una cozzaglia di, una volta c'era un gioco, non so se ve lo ricordate, giochi senza frontiera, ecco il Milan è giochi senza frontiera, ma attenzione, la squadra si è esposta, e sì perché c'è una rappresentanza che ha voluto incontrare Ibrahimovic nella famosa serata post-Liverpool esprimendo la loro non, o meglio, esprimendo la loro contrarietà nei confronti di Fonseca. Io qualche sospetto che la squadra stesse facendo ammottinamento ce l'ho avuto. Ragazzi, il Colin Black è inutile che lo vogliamo relegare ad un episodio in cui noi enfatizziamo, abbiamo capito male, non è così. Lì c'è una rappresentanza e abbiamo messo in copertina, non a caso, Teo e Leao, una rappresentanza di giocatori che ha chiesto al boss, al Leone, di avere una sostituzione dell'allenatore. Cioè la squadra non sta giocando perché vuol far fuori l'allenatore. Questa è la sintesi. Ma poi l'abbiamo pensato tutto, tutti. L'abbiamo pensato tutti. Il fatto stesso che la squadra giochi con quella non vehemenza, per usare un eufemismo, con quella lentezza. È un chiaro esempio di chi ti sta dicendo che noi non ci riconosciamo nel nostro capo, non boss e boss di più, cioè nel nostro allenatore vogliamo cambiarlo. Ora girano nomi che io mi auguro che non siano veri, cioè continuiamo con persone che non conoscono la Serie A. Dobbiamo avere un allenatore come Sarri, come Allegri, volevo Conte. Questa è la mia prima scelta. Abbiamo perso il treno. Con un nucleo di giocatori che non siano quelli di Milan Futuro, perché, l'avete detto voi, sono troppo acerbi. Adesso poi vi hanno detto, attenzione, se no lo dimentico, per l'allenatore i soldi adesso ce li avete, perché Pioli vi ha liberato più o meno 6-7 milioni, chi dice 8, non lo so, però vi ha liberato una bella cifra. Ogni volta che vi si libera una cifra, voi che cosa fate? La mettete nel salvadanaio, così non funziona. Però se iniziate a pensare a nomi che siano dei sottoni, perché il boss che è il primo che deve pagare, perché il nostro problema attuale nella gestione, al di là della testa che puzza dalla testa, il pesce puzza dalla testa, la gestione è oggi, l'avete visto nella dichiarazione, la colpa e i nostri limiti sono tutti su Ibrahimovic. Ibrahimovic deve andarsene, non c'è alternativa, non si può rispondere così a una televisione, non è un social network, però si sentono nomi che continuiamo in questo errore e continueremo in questo errore perché se non mettiamo subito un punto la stagione sarà interlocutoria con nessun tipo, non dico di titolo, ma con problematiche ancora più serie. Comunque, la squadra si è espressa, io spero che questo esonero arrivi oggi, ma prima del derby. E la mia paura è che vinciamo il derby, pensate dove mi hanno portato questi signori, perché se vai a vincere il derby, i vivacchi, abbiamo risolto tutto vincendo contro il grande Venezia, avete capito? È tutto per adesso ragazzi, ci vediamo nel poveriggio perché voglio parlare di una cosa ma la devo verificare, quindi attivate la campanella così vi dicono quelli di YouTube quando il video esce e ne parliamo insieme. Commentate, ciao!